I calendari di Serie A varati dalla Lega interessano due formazioni abruzzesi, SIECO in pavido Ortona, che per la nona stagione consecutiva giocherà in Serie A2, e la matricola Pineto in Serie A3. Entrambi i campionati prenderanno il via il 18 ottobre, ed almeno nel girone di andata della stagione regolare avranno le stesse date. In A2 la SIECO debutterà a Reggio Emilia per poi fare il suo esordio interno il 25 ottobre contro Mondovì. In A3 la matricola Pineto, inserita nel girone blu, ha chiesto ed ottenuto di evitare di giocare in concomitanza con Ortona le proprie gare interne, per cui esordirà in casa contro Ottaviano per poi rendere visita alla Sabaudia il 25 ottobre. Chiusure diverse invece per i due campionati. Il 21 marzo 2021 calerà il sipario sulla A2, il 28 marzo 2021 chiusura della Serie A3. I play-off di A2 inizieranno il 28 marzo, quelli di A3 il 3 aprile non sono previste retrocessioni. Coppa Italia si qualificano le migliori sei della Serie A2 al termine del girone di andata insieme alle prime due del girone bianco e il girone blu della Serie A3.